Amici sportivi buonasera e benvenuti ancora una volta ad Alessandro Grasso Peroni all'appuntamento con l'Hockey con il Carispezzia Hockey Sardana, terz'ultima giornata di campionato è una grande squadra quella che arriva al Palaterti, i giallorossi dell'Odi quarti in classifica con 52 punti dietro a Valdagno, 64, Viareggio, 57 e Bassano, 55 28 punti in più rispetto ai rossoneri per la formazione diretta in panchina da Pierluigi Bresciani una delle grandi di questa Serie A1 di fronte ai rossoneri che quest'anno come abbiamo visto si sono comportati egregiamente contro le formazioni più quotate ricordiamo che il Valdagno qui ha vinto con due retti nelle ultime 10 secondi di gioco ed era stato sotto in tre occasioni di tre reti ricordiamo che poche settimane fa a Valdagno il Sardana è stato in vantaggio e anche abbastanza defraudato dall'arbitro chiudendo 4 a 5 contro i campioni d'Italia hanno avuto grosse difficoltà anche quelli del centro giovani calciatori Viareggio a battere la squadra di Capitan Francesco De Rinaldis i problemi per i padroni di casa li abbiamo riscontrati contro le squadre piccole troppe sconfitte in casa per una stagione altalenante che comunque ha portato Cari Spezia a conquistare la salvezza con qualche turno di anticipo e di potersi giocare l'accesso ai playoff ricordiamo che prima del fischio di avvio di questa gara il Sardana ha un punto di ritardo soltanto dalla coppiata Prato-Follonica che occupano appunto l'ottavo posto l'ultimo utile per giocarsi fatene devete proporzioni lo scudetto vanno in scena i saluti di Rito per questa gara che sarà diretta da Alessandro D'Aprato di Viareggio e da Marcello Di Domenico di Correggio assistente, arbitra, ausiliario, il Lospedino Matteo Righetti partita, ripeto, che si annuncia quanto mai interessante il Lodi è all'attacco del terzo posto il Bassano a quota 55 a più 3 Bassano che proprio sabato sarà ospite dell'Odi e che ora contemporaneamente sta per iniziare la sua sfida col Forte di Marmi quindi per i giallorossi l'occasione di battere Sardana significherebbe presentarsi alla sfida con il Bassano con la chiara opportunità di mettere in discussione questo terzo posto vediamo i quintetti in pista per questa prima frazione è il quintetto base rosso-nero con Simone Corona numero 10 portiere numero 7 Luca Sterpini il numero 9 Leo Squeo il numero 11 Andrea Borcia il numero 5 Gonzalo Gomez mentre nelle file degli ospiti detto che abbiamo come portiere di riserva il 15enne Lorenzo Ostagoli che appunto è in panchina sono in pista il portiere Alberto Losi numero 30, numero 8 Massimo Tataragli il numero 7 Mattia Splatero Domenico Illuzzi con il numero 5 e con il numero 4 il pericolo pubblico numero 1 Joao Pedro Garzia Santo Spinto portoghese di nazionalità angolana andiamo dunque con l'attesa soltanto per il fischio d'avvio ripeto dirigono Alessandro da Prato di Viareggio e Marcello di Domenico volta rappresentanza di tifoseria ospite come potete vedere intorno abbastanza dimesso rispetto allo standard il pubblico rosso-nero comincia subito Pinto che va alla ricerca del gol velocissimo non riesce a concretizzare l'azione Lodi la transizione di Sardana che prova a tenere la pallina farla circolare velocemente come d'abitudine Borsi su di lui va Pinto prova l'assist e la transizione di Illuzzi ferma tutto Sterpini gara velocissima Gomez su Gomez c'era Massimo Tattaranni palla dietro la porta Platero chiama lo scambio a Platero lo scambio con Illuzzi libero Pinto velocizzazione subito con Tattaranni Platero Pinto su Pinto c'è Andrea Borsi c'è Davide Borsi va Pinto prova il numero non ce la fa Squeo giocati 1 e 10 0 a 0 tra Sardana e Lodi Sterpini Borsi va Borsi dietro la porta prova a sorprendere Lodi ancora Borsi Squeo Sterpini Borsi prova dalla distanza la parata di Lodi interviene da Prato la pallina rossonera con Gonzalo Gomez Borsi Borsi prova dalla distanza a partire dalla retrovia ancora Borsi su di lui c'era Tattaranni contropiede va Pinto Illuzzi Pinto ancora la conclusione parata da Corona Sterpini Borsi ancora Squeo prova Squeo la deviazione ancora Squeo pressato da Illuzzi e Pinto anzi non è Pinto ma è Tattaranni va Borsi scarica Sterpini su di lui c'è Pinto Borsi Squeo in mezzo Gonzalo Gomez è fermato Massimo Tattaranni va Tattaranni scarica con Platero pallina si alza Illuzzi Platero Tattaranni manovra avvolgente dell'Odi Tattaranni la parata bellissima di Corona molto infida la conclusione ancora Tattaranni ancora Corona bravissimo il portiere rossonero e poi dall'altra parte Squeo e pescherisce Losi è Gomez che riprende l'azione d'attacco rossonera con Borsi prova Borsi non inquadra lo specchio della porta attenzione Tattaranni è chiuso da Sterpini Platero Pinto Platero Pinto Platero dialogano ancora la conclusione di Pinto la parata di Corona Borsi giocati tre minuti e cinquantotto zero a zero quando ci prova a Sterpini il suo tiro è stato alzato da Illuzzi Platero batte subito Pinto l'azione però deve ricominciare da dietro la porta del Lodi prova Borsi non ce la fa Platero Platero fuori la sua conclusione Tattaranni in mezzo Pinto è chiuso da Squeo attenzione perché Pinto può fare qualsiasi cosa da quella posizione finisce per perdere la pallina transizione di Borsi lo scambio Gomez Squeo errore dell'ex Viaregino Pinto Illuzzi Platero Tattaranni Platero Pinto Tattaranni ancora Illodi che prova a cercare il Varco Platero dalla distanza bravo Corona accompagnare fuori ancora Tattaranni Platero da grande si scontra con Gomez tutto regolare Pinto recupera la pallina gara molto equilibrata con Lodi che sta cercando di imprimere il suo ritmo Tattaranni Platero occhio in 5 secondi Platero finta il tiro non riesce a agganciare al volo Pinto Illuzzi c'è l'infrazione individuata da Marcello Di Domenico da Gomez a Borsi Sterpini ancora Davide Borsi Squeo Sterpini Borsi Sterpini ancora occhi ai 5 secondi Squeo Sterpini velocissima la gara Gomez Sterpini in mezzo la parata di Lodi la grande parata di Lodi a 5 55 bellissima l'azione d'attacco rossonera Pinto intanto sulla pallina Tataranni prova ad andare via in mezzo bellissima l'occasione per Pinto che non inquadra lo specchio della porta giocati 5 minuti 6 minuti e 20 sempre 0 a 0 tra Sarzana e Lodi Gomez recupera Borsi Gomez Squeo perde pallina Gomez transizione di Luzzi Tataranni per Pinto ruba la pallina Sterpini prova Sterpini alto l'intervento di Daprato primo arbitro chiama il pallo attenzione si consultano da Prato e di Domenico la rimessa di Platero va Platero Tataranni poi Luzzi Pinto Tataranni Platero ancora Luzzi prova Luzzi non arriva in porta a sua conclusione fa sfilare controllo a Pinto Tataranni le finte di Tataranni l'intervento in chiusura molto buono di Sterpini che però poi perde la pallina per il Luzzi Squeo Borsi Sterpini lo scambio con Squeo Borsi Borsalo Gomez prova la girata non va ancora Sterpini dietro la porta Sterpini Nulla di fatto ancora 16 minuti e 50 secondi da giocare ribadiamo il parziale qui dal pala ok di piazza terza Sanzana 0-0 tra Sanzana e Lodi quando attacca Lodi con Platero lo scambio con Pinto prova la giocata dietro la porta si ferma il numero di Pinto la parata di Corona va Sterpini Sterpini la parata di Lodi e ancora Lodi due volte stupendo il portiere il portiere giallo-rosso ma avremmo già potuto assistere almeno a 4-6 retti finora Platero bravissimi due portieri Simone Corona e Alberto Losi Sterpini Squeo ancora contrata la sua azione dal binomio Platero in Luzzi da Squeo all'indietro a Davide Borsi uno dei milioni nelle ultime partite Sterpini Squeo vai Luzzi bravissimo prova a far passare la pallina sotto le gambe di Sterpini non c'è riuscito Già Pinto da Taranni anzi era Pinto Platero in Luzzi ha preso un corpo alla caviglia sinistra in Luzzi però sembra in grado di giocare eccolo va in Luzzi prova lo scambio con Pinto all'indietro Platero centrale Platero non va ancora una volta Squeo Sterpini prova Squeo di rincorsa non trova la porta Borsi Gomez la finta su di lui Luzzi che lo accompagna dietro la postazione di Losi prova il number Gomez bravissimo Luzzi a chiudere in collaborazione con Platero va Gomez a dare fastidio scarica su Pinto attenzione all'angolano solito schema prova a trovare lo spazio per la Taranni che manca clamorosamente la deviazione poi Gomez non va è stata una delle occasioni più chiare questa di Taranni giocati 11 minuti anzi 10 minuti e 35 secondi ancora 0 a 0 tra Sanzana e Lodi Platero ha provato a sorprendere Corona di combinazione con João Pinto e ancora Borsi ancora Losi Platero per il Luzzi in mezzo Corona va poi in transizione Squeo fermato da Platero recupero di Sterpini va Borsi ancora Gomez dietro la porta da Squeo il numero di Gomez non va João Pinto c'è sempre Sterpini su di lui Pinto si alza la pallina ancora Pinto commette un'irregolarità Sarzana nuovamente in possesso palla Borsi all'indietro Stepini Gomez nessun cambio fino a questo momento Gomez per evitare i 5 secondi ok Luzzi vai Luzzi grandissimo Luzzi per come si è liberato non riesce a concludere mi recupero di Gomez che chiede scusa ai compagni Sterpini Squeo Borsi Sterpini ancora Leonardo Squeo prova a andare la parata di Luzzi la chiusura di Luzzi l'impostazione di João Pinto il tocco di Platero lo scambio ancora con Pinto Platero scivola in Luzzi c'è libero Tatarani a sinistra preferisce servire João Pinto ancora Tatarani in Luzzi Platero Platero alzicchia questa palla recupera Borsi squerda la sponda la parata di Luzzi contropiede Borsi Gomez non va Sterpini Borsi Gomez Borsi giocati quasi 14 minuti nessun fallo di squadra un dato importante è raro vedere una cosa del genere due squadre che stanno giocando un hockey spettacolare senza trovare entrambe le vie della rete Platero Giopinto da Tatarani poi prova ancora Pinto ancora Corona Borsi Lodi che cerca la vittoria per accorciare distante dal Bassano che affronterà sabato Sardana che vuole i tre punti per superare Follonica e Prato che la sopravanza di una lunghezza nella caccia all'ottavo e ultimo posto utile per i playoff mancano compresa questa tra gare alla fine Sterpini Borsi Sardana che sta tenendo testa mirabilmente a un Lodi sicuramente superiore occhio a Tatarani Tatarani non va ancora Pinto scarica il Luzzi prova il Luzzi a infilarsi tra le maglie della difesa rossonera non ce la fa Platero Giopinto Platero Tatarani Platero il Luzzi e Tatarani Platero Pinto Platero Tatarani il Luzzi le finte di Luzzi la parata di Corona ancora il Luzzi che recupera P e sbroglia tutto Sterpini in collaborazione con Gonzalo Gomez ancora Gomez la girata la parata bellissima di Losi e siamo al 15 e 10 secondi 0 a 0 nessun fallo di squadra gli arbitri avranno fischiato tre volte forse dall'inizio della partita occhio ai Luzzi non ci si ferma mai in questa partita il Luzzi con Pinto Platero Tatarani Platero Pinto si propone Platero non riesce a deviare il Luzzi Platero va Platero e lo ferma e lo ferma Borsi prova a ragionare la squadra rossonera lo scambio con Squeo Gomez Borsi ruba pallina e velocizza Platero lo scambio con Tatarani Pinto il Luzzi ancora Tatarani il Luzzi non ce la fa trovare la porta gli rompe ancora Platero cerca di singe i tempi per sbloccare il match un Lodi volitivo e deciso a sbloccarlo veramente il Luzzi poi Tatarani all'indietro Platero Tatarani Sardana ben disposto in pista non perde un duello la squadra di Alessandro Cupiti Pinto prova a sorprender il corona non trova la porta Tatarani ma Pinto è arretrato la transizione di Borsi prova la conclusione palo esterno di Borsi giocati clamoroso qui a Sardana giocati 16 minuti di anti 17 minuti e 15 secondi 0 a 0 time out nessun fallo gli arbitri sono intervenuti pochissimo una partita davvero molto bella insolitamente costellata di occasioni da rete e insolitamente priva del gol l'hockey sport nel quale si fanno tantissimi gol anche se il miglior realizzatore del lodi fino a questo momento sto andando a cercarlo nella classifica dei cannonieri è Sergio festa che non è in pista con 18 realizzazioni mentre il migliore nelle file del Sardana è Sterpini a quota 16 scusate Leonardo Squeva quota 25 scusate giustamente vice capogannoniere del dell'odi è Tataranni ce l'avevo sotto la testa sotto gli occhi con 40 setteretti il migliore del Sardana ripeto è Leonardo Squeva con quota 25 Tataranni che a secondo soltanto al campione dei campioni Gomez Pedro Gil del Valdagno che a quota 55 se abbiamo tanto ripreso a giocare sempre solo 0-0 7 minuti e 6 secondi da giocare Sardana 0 l'odi 0 non riesce la deviazione al volo di Gomez il recupero dell'odi compinto Tataranni ancora ha capito prova Gomez in mezzo cioè il neo entrato De Rinaldi non va lo scambio doppio scambio poi Gomez sul forse eccessivo passaggio di Luzzi sempre 0-0 Borsi prova Borsi non va pallina dietro la porta che ha dato la sensazione del gol entrato intanto in pista De Rinaldi per Squeo prima sostituzione ingaggio tra Plattero e Mone l'intervento degli arbitri Plattero già vinto Plattero Tataranni Illuzzi Tataranni va Tataranni fermato da Stelpini la guardia serrata quella del difensore numero 7 russonero Reggiano c'è il fallo lo ha commesso Gomez Pinto ancora Pinto Corona prova Plattero riesce a prendere la pallina gliela ruba Gomez Borsi pressato Borsi cerca il dialogo con Gomez su di lui c'è Tataranni ancora Gomez all'indietro proverà dalla lunga distanza Sterpini finta ancora Sterpini Borsi ma non c'è spazio Gonzalo Gomez Davide Borsi Sterpini prova Capitano De Linaldis andare via sulla sua sinistra ma non trova il pertugio Plattero e ancora Corona Portieri Superstar in questa prima fase ormai siamo al ventesimo minuto e 35 secondi 0 a 0 4 e 20 da giocare Plattero in mezzo non arriva la pallina a Iluzzi che lotta per recuperarla pressato da De Rinaldis va Iluzzi De Rinaldis lo ferma la sua volta è fermato da Massimo Tataranni e ancora Corona su Iluzzi Sterpini va De Rinaldis 3 e 48 al quadrame del primo tempo 0 a 0 dalla distanza Borsi ancora Lozi la pirouette è lo scarico di Iluzzi per Tataranni prova a servirla ancora in mezzo Gomez De Rinaldis ancora Lozi partita bellissima anche senza gol Iluzzi Iluzzi numero di Iluzzi poi Tataranni fermato per un attimo è spinto da Borsi time out Sardana anzi time out sì Sardana 0 a 0 3 e 18 al termine occasioni in numero notevole per i vari Tataranni Iluzzi Gio Pinto e Platero sempre in pista loro per lo Sporting Lodi Sardana vicinissima golla con i vari Squeo Sterpini Gonzalo Gomez Borsi e in ultimo anche De Rinaldis si riprende è entrato Festa il numero nove del Lodi è uscito mi sembra Platero no è uscito il Luzzi quindi Festa per il Luzzi con la seconda da giocare 3 minuti e 11 secondi prima sostituzione anche nelle file della formazione diretta in panchina da Pierluigi Bresciano eccolo Festa Tataranni anzi Pinto prova a servire Tataranni Sterpini Borsi prova a Gomez 2.40 alla conclusione del primo tempo la De Rinaldis a Gomez dietro la porta Borsi Gomez Platero Platero Pinto ancora l'indietro per Platero ragionatore ancora la parata di Corona sul tiro da metà campo di Platero protesta Tataranni la pallina di El Sarzano da Sterpini a Gomez 2 minuti alla conclusione del primo tempo 0 a 0 incredibile qui a Salzano Borsi De Rinaldis Gomez Borsi prova a andare via dietro la porta fermato da Platero anzi da Festa l'intervento di Di Domenico per gli arbitri in mezzo non va Pinto attenzione all'angolano Pinto il numero di Pinto si allunga troppo la pallina poi Sterpini Gomez Borsi De Rinaldis non va al contrapiede 1.25 0 a 0 Gomez 1.20 ancora alla fine del primo tempo 0 a 0 De Rinaldis Gomez Sterpini ancora Sterpini stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco 0 a 0 il numero tentato da Borsi va Pinto a pressarlo Borsi in mezzo Gomez poi Platero Pinto Tataranni Sterpini 53 secondi alla conclusione del primo tempo vanno i baldi giovini rosso neri alla recupero della piccola sfera pesante eccolo che consegna la pallina a Sterpini si riprende 50 secondi brava Borsi Losi De Rinaldis ma è bravissimo Platero a fare schermo al suo portiere Platero 37 secondi Platero festa 30 secondi per la prima volta da quando c'è l'hockey a Sanzana almeno in Serie A1 un primo tempo sta per concludersi senza reti 17 secondi 17 secondi protesta Pinto vuole la pallina dal tavolo ma il prode giocatore delle giovanili di rosso nere recupera mancano 12 secondi quando attacca Davide Borsi che lascia trascorrere il tempo Sterpini non era la fine pensavano fosse la fine Rosalo Gomez invece la fine è nota solo ora come direbbe Tiziano Terzani 0 a 0 incredibile qui a Sardana a dopo per la ripresa allora si riprende per questo secondo tempo di Sardana Lodi dopo una prima frazione di gioco storicamente conclusa per quello che riguarda questo impianto ormai utilizzato da parecchi anni dall'Hockey Sardana 0 a 0 contro Lodi che ha il signor Massimo Tatarani a quota 47 reti che ha bisogno di gol per attaccare il Bassano che è terzo in classifica e migliorare e sta perdendo mi dicono gli amici colleghi da Lodi presenti presenti qui accanto a me per cui ci sono tutti i presupposti per vivere un secondo tempo straordinario Lodi in pista come ha concluso la prima frazione vale a dire Losi in porta numero 9 festa numero 5 il Luzzi anzi c'è il Luzzi e c'è la Tatarani prima ci sono Platero ancora e già ho pinto nelle file del Sardana questo è il primo fallo cattivo che vediamo lo ha commesso il Luzzi su Gomez Gomez è in pista insieme al numero 11 Davide Borse numero 9 Leonardo numero 7 Luca Stelpini e poi c'è il portiere che è Simone Corona migliore in pista fino a ora Domenico Alberto Losi portiere del Lodi e Simone Corona entra Pistelli Matteo Pistelli per Gonzalo Pistelli che ha segnato un solo gol finora nelle rare presenze anche se mi sembra di poter dire che ha segnato una presenza a un gol ma quello deve essere stato fioravanti partire giocate 23 23 presenze il gol festa Pinto Platero va festa cadere a terra pinto scivolato prova Pistelli va Pistelli numero di Pistelli 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 Stelpini Borsi lo scarico lo scarico Platero festa conclusione di festa fuori dallo specchio della porta Platero Gio Pinto il Luzzi Platero festa Pinto il Luzzi velocissimo Lodi festa non trova la porta ancora vai il Luzzi Pinto Pinto il Luzzi ha provato il numerone il Luzzi non ce l'ha fatta Borsi velocizza la manovra va Borsi ha provato a servire Pistelli Rubat finisce per palo clamoroso palo di festa al 3 e 15 Stelpini Borsi Borsi Squeo Borsi Squeo Borsi di lui c'è Gio Pinto va Borsi la parata di Luzzi poi Pistelli si è scontrato con Platero non fischiano gli arbitri festa Gio Pinto Rappinto in mezzo festa non controlla Pistelli il numero di Pistelli non ce la fa Borsi Borsi Squeo Sterpini giocati 24 minuti e 20 secondi anzi 29 minuti e 20 secondi 0 a 0 comprensivamente incredibile Borsi non va Platero lo scambio con Gio Pinto la finta anzi è il Luzzi va il Luzzi su di lui Sterpini che gli ruba la pallina intervento al momento giusto di Luca Sterpini prova la conclusione palla che si alza rimane in giuego festa il Luzzi Platero il Luzzi c'è Gio Pinto dall'altra parte festa Pinto il Luzzi il Luzzi la parata di Corona poi Squeo la alza per Sterpini recupera subito Gio Pinto Borsi non si accorge del passaggio Pistelli contropiede e vuole fare troppa accademia Pinto perde l'opportunità Platero festa Pinto il Luzzi Platero va Platero con Gio Pinto festa ricomincia da dietro fermato da Borsi ancora festa non va festa dalla distanza ancora senza soluzione questa partita 0 a 0 giocati 6 minuti e mezzo nella ripresa siamo al 31 1 e 30 0 a 0 Borsi Sterpini Gomez Sterpini all'indietro Borsi prova Borsi Borsi la parata di Losi e poi ancora Losi su Squeo eeeh non trova Gio Pinto Borsi non va si gioca in una bolgia assordante il palaocca si è riempito Sterpini Gonzalo Gonzalo Gomez Borsi Sterpini ancora Borsi Sterpini Gonzalo Gomez Sterpini lo scambio con Squeo ancora Sterpini all'indietro per Borsi va Borsi il numero ma non si fa sorprendere festa tanto io continuo a guardare il cronometro che va avanti e il tabellone dice sempre 0-0 Plattero festa anzi Illuzzi la parata di Corona Illuzzi su di lui chiude chiude Sterpini poi c'è l'intervento di Gomez cade a terra Illuzzi che stava combinando insieme a festa entra Motaran attenzione entra Marco Motaran un altro pericolo pubblico numero uno nelle file di Giallo Rossi Lodigiani festa non trova Illuzzi Sterpini Gomez Sterpini Borse e prova la conclusione di volo senza trovare la via della rete Gonzalo Gomez prova il numero allontana Losi recupera Gonzalo Gomez pressato da festa poi Borsi Gonzalo non aggancia Illuzzi festa il tiro di festa la parata di Corona attenzione Motaran non trova il gol ancora un errore e poi ancora Borsi attenzione che c'è il blu blu per Motaran appena entrato Motaran si becca al blu blu al 9 e 17 e c'è la punizione di prima di Borsi è la prima vera chiara occasione da gol senza avversari per una delle due squadre Borsi contro Losi quando siamo a 34 minuti di gioco senza gol 0 a 0 blu a Marco Motaran appena entrato Borsi contro Losi il risultato può essere sbloccato ripeto dopo 34 minuti e 17 secondi di gioco la cosa che dire inusuale è puro eufemismo per quanto riguarda l'hockey ripeto Losi portiere della Lodi contro Davide Borsi l'estroso rosso nero numero 11 ecco Borsi va Borsi Borsi gol il Sardana sblocca il risultato con una freddezza con una freddezza glazzale degna del miglior chirurgo qual è suo padre medico e qual è suo nonno e qual è suo zio Andrea Borsi ha sbloccato il risultato e ora come spesso accade dopo tanto periodo senza reti ci auguriamo di vederne parecchie altre mancano 15 minuti e 20 alla conclusione Sardana 1 Lodi 0 marcatore Borsi al 9 17 della ripresa dopo un primo tempo davvero spettacolare ma senza reti tarantolato tarantolato Lodi reagisce immediatamente con festa la parata di Corona va Gonzalo Gomez squalo la parata di Lodi Lodi e Lodi ha salvato dal raddoppio la sua squadra grande Illuzzi una giocata stupenda di Illuzzi non trova la porta Sterpini Borsi ora si gioca in una Bolgia 5 falli per Sardana 2 per Lodi Borsi non va l'azione di Sardana rientrato Tataranni va Tataranni per l'altro da Sterpini poi Illuzzi ancora Colona Gomez sotto dietro di lui Squeo non va per l'intervento di Platero gara stupenda con Platero che imposta Tataranni Platero Illuzzi Festa Sardana che ha sbloccato a 9.17 della ripresa con Borsi Tataranni ancora Tataranni occhio a contropiede Sterpini Borsi rientra fermato Platero già ho pinto prova Festa la parata di Corona Gomez Squeo Borsi Sterpini Borsi Sardana in controllo del mezzo anche se è una parola difficile da dire contro l'Odi Borsi Sterpini Squeo Gomez Squeo Gomez bellissimo Borsi perde la palla ma la recupera su Tataranni va ancora Borsi prova la magia eccessiva il recupero di Illuzzi festa Platero va Squeo Borsi dietro la porta Sardana che controlla ancora la pallina Sterpini Squeo Sterpini Gonzalo Gomez Borsi 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 Sterpini Moussalo Gomez Borsi in mezzo Pescoo e c'è la parata di Losi poi c'è il fallo forse di Borsi contro piede Sterpini recupero bellissimo di Tataranni ancora Corona che ha costretto a intervenire Gomez all'indietro Sterpini Gomez Sante Squeo Gomez Sterpini Borsi occhi e cinque secondi Gomez fa in profondità Squeo Gomez Sterpini Sterpini Gomez prova a far girare Sardana Squeo dalla distanza sfortunata conclusione occhio occhio al Platero e pareggio il pareggio del del Lodi con Massimo Tataranni al 13 e 41 l'1 a 1 di Tataranni e siamo di nuovo in parità è durato praticamente 4 minuti e mezzo il vantaggio del Sardana quando attacca ancora Tataranni corona per Gomez Squeo Borsi prova Borsi Gomez protesta Mirozzoneri Stepini occhio ai 5 occhio ai 5 Luca Davide Borsi la giravolta di Borsi va Borsi ha provato la magia non c'è riuscito poi c'è il fallo di Gomez blu a Gomez al 14 35 e ora occasione del vantaggio per il Lodi con Massimo Tataranni contro Simone Corona Tataranni che è andata già a quota 48 retti con il gol del pareggio vedete com'è l'ok lo sapete benissimo amici Tataranni contro Corona Tataranni contro Corona il gol Massimo Tataranni e il Lodi ha rovesciato ha rovesciato il risultato la squadra giallo-rosso ha subito alla rete dello svantaggio ha dimostrato di essere un grande squadrone reagendo veramente in modo veemente c'è di nuovo Motaran Platero Motaran Platero Motaran Tataranni Platero Motaran Platero perde la pallina è rientrato Pistelli può servire il Luzzi tira ma arriva Sterpini che recupera Squeo Squeo la pallina si alza pericolosamente esce dal rettangolo di gioco Sardana che l'ha andato in vantaggio ripeto al 9-17 con la punizione di prima di Borsi il pareggio di Tataranni al 9 al 13-41 gran deviazione sotto a porta al 14-35 altra punizione di prima questa volta trasformata la Tataranni su Corona protestano i sardaresi la transizione dei Lodigiani il numero di Tataranni Corona parato Squeo la parata di Losi poi Borsi Squeo Sterpini mancano 9 minuti alla conclusione Sardana 1 Lodi 2 le retti tutte nel secondo tempo ecco Dado di Donato che si è laureato proprio ieri in economia speriamo che questa circostanza porti bene a Dado di cui ricordo un gol straordinario contro il Valdagno la gol del parziale 8-5 Tataranni poi quella gara come abbiamo già avuto malo di ricordare più volte finì 10-8 per il Valdagno con le ultime due segnature di Nicolia e di Ghilla negli ultimi 10 secondi di gioco protestano i tifosi rossoneri contro l'arbitro Marcello Di Domenico di Correggio per avere penalizzato in questa circostanza Luca Sterpini la rimessa Platero Motaran Platero lo scambio con Tataranni Platero va Platero dietro la porta amministra il Luzzi va il Luzzi centrale scarica per Motaran anche Tataranni Platero Platero Tataranni ancora Platero regista scivola Motaran Platero Tataranni perde la pallina il Lodi rientra in pista anche Davide Borsi bidonata Sterpini Borsi Davide Borsi dietro la porta si gira cerca il compagno Borsi Pistelli di Donato e Sterpini in pista per il Sarzana il Luzzi Motaran Tataranni e Platero per il Lodi fase decisiva del match 7 minuti 10 e 10 alla conclusione Sarzana 1 Lodi 2 Di Donato la parata facile di Losi però un po' goffa Di Donato va a dare fastidio a il Luzzi che viene fermato da Sterpini Sterpini Di Donato Borsi non aggancia Pistelli protesta Sterpini con gli arbitri per un fallo di cui evidentemente i direttori di gara non si sono resi conto Platero l'uomo in più del Lodi Motaran Il Luzzi Platero Il Luzzi Motaran Il Luzzi adesso c'è Il Luzzi a fare regista eccolo ancora su di lui Pistelli Platero Motaran da Platero a Tataranni ancora Platero 6 minuti a conclusione Sargana 1 Lodi 2 Motaran Marco Motaran in mezzo non trova compagni va a pressare Motaran su Davide Borsi Edoardo Di Donato va Dado Pistelli Sterpini di Donato Sterpini Borsi su Borsi c'è Marco Motaran prova Borsi a liberarsi non ce la fa Il Luzzi ancora cercato di inserirsi tra difensore e portiere poi c'è la pattinata e il time out 5 minuti e 30 ancora da giocare Sarzana 1 Bassano 2 scusate Lodi 2 per effetto delle reti segnate al 9 17 di questa ripresa da Borsi dopo 34 minuti di gioco senza gol il pareggio al 13 41 di Tataranni ancora lo stesso gole Ador Lodigiano al 14 35 Massimo Tataranni per il 2 1 e rientra Squeo Leo Squeo il miglior marcatore sardanese con 25 reti in questo campionato Plattero 5 25 da giocare Sardana 1 Lodi 2 Plattero Tataranni Plattero sempre in pista Plattero ancora lui l'argentino Mattias Plattero Tataranni e Plattero giochicchiano amabilmente nel possesso di palla Marco Mottaranni anzierà Illuzzi Mottaranni eccolo qua il numero 6 Plattero Tataranni 5 6 7 8 in campo per Lodi Illuzzi una velocità incredibile da parte da parte di giocatori giocatori giallo-rosso lottano Gomez e Illuzzi alla meglio il giocatore dell'Odi che poi dà l'indietro per Plattero occhio 5 secondi Tataranni fermato da Squeo lo scambio con Gomez non aggancia Plattero Mottaranni Plattero festa rientrato festa Mottaranni 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 Tataranni Plattero Mottaranni Mottaranni 4.46 al termine ma sono 3.40 la conclusione sempre Sardana 1 Lodi 2 Sardana che cerca di produrre il massimo sforzo per agganciare il pari Borsi Gomez Didonato Squeo 3.15 la conclusione perde la pallina Gomez Mottaranni la conclusione è sbagliata si riprova Sardana con Gomez 3 minuti Gomez la parata di Lodi 2 volte Lodi su Gomez ancora 2.50 la conclusione Sardana 1 Lodi 2 cerca il pareggio in tutti i modi il Sardana si difende ed è pericolosissimo il contropiede Lodi Squeo 2.40 la conclusione Borsi da distanza non va 2.30 Didonato Borsi Gomez c'è un'irregolarità commessa dei Sardana 2.24 la conclusione sempre Lodi in vantaggio per 2 a 1 Motarana pressato da Squeo tiene pallina in Lodi 2.8 la conclusione Tataranni festa scivola Gomez Borsi fermato da Platero ancora Borsi 1.50 la conclusione scivola Didonato controlla e tira si alza la pallina nella zona di Borsi prova Borsi a liberarsi in mezzo Squeo non ce l'ha fatta a trovare il gol ecco il gol il pareggio no non è gol Squeo ce la prende con Di Domenico dice che non è gol l'arbitro gli arbitri dicono che non è gol e il presidente Corona è un po' incavolato era gol non gol noi dalla tribuna non l'abbiamo visto sinceramente Tataranni ecco che ora il Lodi può chiudere Motaran c'è il fallo e c'è il time out la partita si è incattivita si è incattivita dopo questo Motaran è Squeo e Squeo si va a prendere il blu e Squeo ha fatto la genialata blu a Squeo alla 23 e 36 per protesta e ora ci sarà l'opportunità di 3 a 1 per il Lodi e la gioco fermo con il time out e ha ora il il pubblico ce l'ha con c'è stato c'è stato un blu per Squeo e molta run un blu per parte perché si sono accesi gli animi si ricomincia Borsi in mezzo non ce la fa è entrato sul terreno su in pista a Fioravanti l'ultimo minuto di gioco 1 e 5 sempre Lodi avanti per 2 a 1 quando manca un minuto e tre secondi finale incandescente con il pubblico che non si è beccato finora che ha cominciato adesso Borsi all'indietro per Di Donato dalla distanza la parata di Lodi 52 secondi Sardana che prova a trovare il pareggio di Donato ancora non va più avanti 46 secondi ma la pallina dell'Odi con Plattero e Illuzzi si libera di Fioravanti Illuzzi va mette in mezzo Tatarani controlla Plattero 32 secondi Plattero festa Tatarani festa 25 secondi Fioravanti non trova Gomez ha capito tutto Plattero 17 secondi e c'è il pallo di Donato su Plattero Illuzzi e Fioravanti a contendersi la palla 14 secondi 10 secondi ruba la pallina a Fioravanti e il crocio dei pali doppio il crocio dei pali doppio il crocio dei pali di Fioravanti e Borsi quando manca un secondo finisce la partita una partita che Sardana non meritava assolutamente di perdere una partita che il che il Lodi porta a casa anche grazie a quella decisione arbitrale che ha creato notevoli problemi Dada di Donato intanto complimenti dottore che ti sei lavorato ieri grazie una sconfitta è meritata avete tenuto a testa i più quantati avversari e poi nel finale quel gol non gol e quei due pali incredibile sì peccato soprattutto per il gol fantasma si può dire anche se nell'occhio non esiste vabbè secondo me la palla era entrata l'arbitro è deciso diversamente peccato anche per i pali ma comunque l'Odi non ha meritato la vittoria anzi sono stati pericolosi ci hanno messo in difficoltà noi con i denti siamo difesi poi abbiamo provato a ferirli è andata male però penso che anche il pubblico stesse riverpito